Siamo in una villa, facendo molti cerimoni, facendo una festa, una partita di bambina e consumano molta energia. Il sistema elettrico, l'organizzazione elettrico, non era sufficiente per aiutare tutte le lezioni che abbiamo qui nella villa. Per questo si usano un generatore di diesel per aiutare tutte le lezioni che abbiamo qui nella villa. Ma con il generatore di diesel si consumano molti d'argento. Per questo si usano 50 kilowatt di panel di solare per usare l'energia che arrivano dal sole. E grazie a tutti i sistemi che possiamo vedere qui, stiamo producendo più o meno 35 kilowatt di energia per aiutare il multiplo che abbiamo collegato in tre fasi. Il ha di diesel, certo? Sì. Per complementare l'energia? Non per complementare, ma per salvare un'argento. Perché con questo sistema, abbiamo già visto che stanno pagando circa 4,000 euro per al giorno. Ma prima, avevano un generatore di diesel? Sì, prima avevano solo usato un generatore di diesel, quindi avevano consumare un'argento e anche un'energia che arrivano dal sistema elettrico. ovaliziamo. Il sistema. Grazie a tutti.